Presidente, abbiamo letto questi messaggi di questi giorni, anche le interviste, senti sempre questa sfiducia oppure la cosa sta migliorando? La sfiducia c'è, ho imparato a conviverci, la sfiducia c'è, ho imparato a conviverci. A momenti oggi penso che al casello mi chiedevano se 16 pago, però non era il casellante ma era direttamente il via passo, moglie di... Ci sono stati fatti anche una sorta di appelli per avere qualche aiuto, c'è qualche novità su questo? Sì, il fatto che gli appelli sono finiti e che adesso andiamo avanti a pensare alle cose serie. Con degli interlocutori o da solo? Ma ho degli interlocutori, non aretini regionali, con i quali sto intracciando dei rapporti, però che vanno sicuramente a dopo il 16, quindi adesso pensiamo a far stare tranquilla la squadra e a giocare serena. Sì, sì, ci sono anche degli imprenditori del nord che vogliono entrare in questa operazione perché non mi vedono come romano strunzo, passami il termine, scusa. Sono contatti che arrivano anche tramite il comune o trovati da solo? Trovati da solo.